Il nuovo mese in game sta arrivando ed è mio dovere nonché piacere informarvi e darvi una prima infarinatura su ciò che ci attende ad aprile in Marvel Contest of Champions. Ah, questo video è per voi, per voi che veramente ci avete creduto allo scherzo del pesce d'aprile e veramente vi siete disiscritti al canale. È uscito già sul forum in anteprima il primo articolo che andrà a spiegare, a trattare il nuovo evento, diciamo, side mensile del mese di aprile che è questo Contest of Realms. Allora, inizio ovviamente 7 aprile 2021 e fine il 5 maggio. Prima di iniziare, ovviamente, al solito, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e seguitemi anche qua sotto su Twitch per tutte le dirette. Ogni sabato pomeriggio sono live per Marvel Contest of Champions, quindi passate a salutarmi, mettete il follow e se avete Amazon Prime e volete darmi il vostro abbonamento, ve ne sono molto grato. Allora, iniziamo a vedere un attimo questo evento che sembra, lo dico sempre, lo so che lo dico sempre, però veramente sembra un po' meno macchinoso e un pelino più divertente di quelli passati. Ovviamente non ci spero più, ma diamo il beneficio del dubbio. Allora, vabbè, tutta l'introduzione. Tra l'altro, la cosa che mi piace di questa spiegazione che hanno fatto questa volta sul forum è che l'hanno fatta veramente a prova di scemo, nel senso che le altre erano sempre super incasinate. Qui, come vedremo poi, hanno evidenziato proprio le cose che bisogna fare punto per punto e quindi, anche grazie a questo video, credo che sarete molto più sul pezzo quando poi l'evento arriverà. Allora, la quest, la missione, completare gli obiettivi solo, quindi gli obiettivi individuali, prendere le chiavi dagli obiettivi individuali, aprire la missione e fare i path e prendere i reward a ciclo. Questo è il modus operandi, diciamo, generale di questa nuova missione. Allora, obiettivi individuali e prendere le chiavi. Allora, una volta che si compiono gli obiettivi individuali, si ottiene la chiave. Un nuovo obiettivo con una nuova chiave viene sbloccato ogni giorno, quindi ogni giorno ci sarà un obiettivo da portare a termine che darà una chiave. Quindi non ci saranno sorprese da questo punto di vista. Una volta che capisci, quindi scopri qual è l'obiettivo giornaliero per prendere la chiave, lo fai e ti pilli sta chiave. Ovviamente gli obiettivi individuali sono aperti dal momento in cui si sbloccano, infatti qui mettono in grassetto che sì, si possono fare gli obiettivi individuali in qualsiasi momento durante tutto l'arco del mese e quindi si possono accumulare. Cioè si può fare per assurdo l'ultimo giorno del mese tutti gli obiettivi, tutte le chiavi, tutti i path, si può fare tutto quanto in una botta sola quando si vuole. Queste sono le chiavi. Allora, sbloccare la quest, la missione. Una chiave sblocca una sola missione, quindi ogni giorno una chiave per un'entrata alla missione. Utilizzando quindi la chiave si sblocca la quest, la quest non avrà costo di energia, quindi sarà free gratis di energia e si possono portare, si potranno portare solo tre campioni questa volta. In questa missione si vedranno sette percorsi ed è nostra scelta se fare i percorsi oppure andare diretti al boss, c'è un path che ti porta diretto al boss. Ovviamente qual è lo svantaggio? Ed è segnato qui. Se si schippano i path e si va direttamente al boss, si andrà a perdere i reward, quindi le ricompense che ci saranno in ogni singolo path. Quindi il mio consiglio fin dall'inizio è se avete tempo eccetera, non andate diretti al boss ma fatevi i percorsi perché comunque vi dà delle ricompense in più. Notare anche che gli scontri di per loro durante i path contribuiscono anche agli altri obiettivi individuali. Quindi in aggiunta a quello giornaliero è molto interessante fare i percorsi perché in una botta sola si completano anche altri obiettivi. Scontri randomizzati, ricompense e boss. Allora i sette scontri che ci sono nel path sono giornalmente randomizzati, quindi ogni giorno cambiano. Ovviamente in un pool limitato di scontri. Il boss, anche quello, è randomizzato giornalmente sempre da un pool limitato. Le ricompense dei nodi che ci sono all'interno della missione sono anche quelle randomizzate. E ogni volta che si finisce il path, quindi si batte il boss, si randomizza tutto, ricompense comprese. Questo vuol dire che se si fa, come vi ho detto prima, visto che si può fare più missioni in un solo giorno perché si sono accumulate chiavi, ovviamente ogni volta che finiamo la missione e ci rientriamo abbiamo tutto nuovo. Nuovi scontri, nuovo boss, nuove ricompense. Ovviamente qui dice che l'immagine è soltanto rappresentativa della tipologia, ma non è assolutamente indicativa né degli scontri né delle ricompense eccetera eccetera. Allora, qua ci sono una marea di, diciamo, buff, nodi, robe che non starò a leggervi tutti perché sono veramente infiniti. Comunque ci sono praticamente dei boost e dei nodi su ognuno dei boss e ognuno, diciamo, dei sette scontri che ci sono nel path. Quindi il nodo, il buff del boss finale, il boss di Patriot Garrison, di Gamma Ord, Temple of Visanti. Insomma, sono vari boost che quindi vi aiuteranno nella scelta dei PG da portare. Ad esempio, guardiamo il primo sul final boss, Kill or Hide, quindi ogni 12 secondi il difensore ottiene rigenerazione. Ma se voi state lontani quando questo timer scade la prendete voi, oppure finire la combo da 5 con leggero o medio vi dà una furia, ovviamente dovete sempre alternare. Se fate la stessa combo due volte perdete le furie. Oppure gli attacchi speciali infliggono blocco guarigione. Oppure, guardiamo questo qua, debolezza, diciamo, potenziata. Quindi tutti i debuff debolezza sono 40% più efficaci. Insomma, quando poi andrete a vedere, saprete quali sono i PG più adatti anche a seconda di questi boost. Ovviamente ci sono 4 difficoltà come al solito, quindi eroico, master, epico e leggendario. E la missione sarà sempre la stessa, una sola missione, per una sola chiave. Ovviamente la difficoltà la scegliete voi, ma non potete fare tutte le difficoltà. Quindi avete un accesso con una chiave, decidete qual è la difficoltà che volete sbloccare, qual è la difficoltà a cui volete fare la missione. Ovviamente vi consiglio sempre di fare la più alta per il vostro livello. Quindi riassumendo, qui quello che vi dicevo prima, che ci danno proprio lo specchietto a prova di babbo. Quindi ad aprile e anche un po' di maggio, cosa dovrete fare giornalmente? Come sarà il vostro daily, la vostra routine quotidiana in questo gioco? Completare l'obiettivo giornaliero per prendere la chiave. Sbloccare la missione, stessa missione che però si refrescia per quanto riguarda i path, i boss, eccetera, con la chiave. Fare i path o i path, a seconda di quello che si vuole fare. Sconfiggere il boss, prendere le ricompense e quindi completare anche gli altri obiettivi individuali. Fine. Ripetere questo ogni giorno. Se fate i path ogni giorno, sarete anche in grado di completare tutti quanti gli obiettivi individuali. Quindi prendere anche le ricompense relative. E inoltre prendere anche un assortimento diverso di reward. Perché ovviamente se continuano a refresciare, potrete anche variare la tipologia di ricompense da prendere. Quindi, siccome appunto le ricompense sono randomizzate giornalmente, non si sarà, non si è in grado di prevedere con certezza cosa si otterrà, diciamo, in tutta la durata del mese. Non si può saperlo con certezza. Ci sono quindi tutte le tipologie di ricompense che possono essere trovate all'interno dei path. Ovviamente non si sa quali, non si sa quali in quel momento in cui voi entrate nella missione. Comunque andiamo a vedere, ad esempio, per epico e leggendario ci sono gli alfa 1, scheggi ovviamente frammenti, frammenti cata 5, scheggi 6 stelle, pietre 5 stelle, cata 4 classi, sempre frammenti, scheggi 5 stelle, scheggi di alfa 2 e oro. Per il leggendario uguale, meno male, identico ma solo più pompato, quindi quantità maggiore delle stesse ricompense dell'epico. E qui in basso, in piccolissimo, quasi leggibile, ci sono praticamente gli obiettivi individuali, che se volete andarveli a vedere, comunque saranno disponibili ovviamente nella solita sezione degli obiettivi individuali. Non sarà assolutamente difficile capire che cosa si dovrà fare. Bene raga, grazie mille per essere stati ancora con me in questo video velocissimo in cui vi davo una prima infarinatura su quello che sarà il nuovo evento side di aprile. Sembra un po' il solito evento, ma sicuramente più semplice almeno a livello di tipologia di cose che bisogna fare, quindi secondo me sarà abbastanza liscio. Vedremo poi alla fine quanto effettivamente pagherà a livello di ricompense. I due personaggi sono questo nuovo Iron Man, che non mi ricordo neanche come si chiama, è veramente raga, basta Iron Man, non ce la faccio più, e Jabari Black Panther, che appunto è Jabari, che si sa già, si intuisce già, che nel mondo dell'MCU sarà la nuova Black Panther, ma sinceramente non mi aspettavo di vederla adesso in game. Comunque vedremo poi se ci sarà qualcos'altro, qualche chicca on top rispetto a questo evento, altrimenti ci sarà questo, la solita missione cavaliere, eccetera eccetera. Vi ricordo sempre di iscrivervi e seguirmi su tutti i social, live su Twitch il sabato se volete passarmi a trovare per Marvel Contest of Champions, ma sono live anche tutti i mercoledì sera, oltre alle live estemporanee che decido e comunico su Instagram. Ci vediamo presto, grazie a tutti, anche a chi ha accolto piacevolmente il mio simpatico scherzo del pesce d'aprile, chi l'ha presa male mi dispiace, ma va bene così. Una buona giornata a tutti, ciao!